Luca Davide Revisore. Buonasera a tutti. Stasera non sono qui per dirvi che non esiste più un pianeta B, non sono qui per dirvi che le risorse che stiamo utilizzando adesso sono già le risorse del prossimo anno. Non sto neanche a dirvi qua che il tempo a nostro favore ormai sta finendo, non sono qui per demoralizzarvi, cerco in qualche modo di essere qui stasera per raccontarvi una storia, la mia storia, cercherò di farvi vedere solo qualche foto e con l'intento di farvi tornare a casa un po' più positivi. Questa storia nasce più o meno nel 2012 dove mi trovavo in Mozambico, paese a me caro dove sono nato, vissuto, e dove appunto mi trovavo per fare un progetto di cooperazione allo sviluppo per una ONG italiana. Ho avuto la fortuna che in quello stesso e medesimo luogo e periodo si trovavano poi delle persone che sarebbero diventate per me amici e non solo dei collaboratori e ci univa la voglia di cimentarci in questo mondo della cooperazione allo sviluppo, chi per studio o chi c'era nato in mezzo come sottoscritto. Ci univa anche però la volontà di portare avanti e soprattutto l'idea e tutte le tematiche relative al climate change, al cambiamento climatico e alla natura. E soprattutto come queste non fossero prese in considerazione nei progetti di cooperazione allo sviluppo nei paesi in via di sviluppo perché esattamente nei paesi in via di sviluppo dove i cambiamenti climatici stanno dando gli effetti maggiori, si vedono sotto il sole, non sono solo un problema a livello naturale ma stanno diventando anche un problema a livello sociale. Abbiamo quindi deciso di prendere questi due argomenti e unirli tutti insieme, creando quindi un nuovo progetto, un nuovo modo di creare cooperazione allo sviluppo basando su dell'azione che potesse in qualche modo combattere il climate change. Questa storia quindi nasce con la volontà di cambiare un po' il paradigma che ci portiamo dietro dalla rivoluzione industriale, più o meno che vede lo sviluppo economico andare a velocità elevatissima a discapito della natura. Quello che vogliamo fare in qualche modo con i nostri progetti è quello di girare questa piramide che vede l'uomo in alto e la natura in basso. Questa storia nasce anche, all'interno di questa storia c'è anche inevitabilmente come in tante altre un inciampo. Infatti avevamo iniziato con un progetto forse più grande di noi nel paese in cui ci aveva visto nascere, ovvero Mozambico, che a un certo punto dopo due anni di sforzi, di intenti, di volontà, a un certo punto si è interrotto. Non per la nostra volontà, però purtroppo succede. È stato un momento estremamente difficile, è stato un momento di estremo complessità e divisivo fra di noi. Però penso che sia stato anche un momento estremamente importante per la crescita nostra personale ma anche del nostro progetto. Infatti, grazie anche appunto alla volontà del mio socio fondatore Michele, non ci siamo arresi. Abbiamo voluto quindi darci il tempo e di cambiare anche quelle che potevano essere le nostre prospettive. E cambiare prospettive significa cambiare anche il paese di azione. Ci siamo quindi trasferiti dall'Africa, ci siamo trasferiti in un posto magico che è il nord della Colombia, esattamente nella Sierra Nevada di Santa Marta, che gli stessi indigeni chiamano il corazón del mondo, il cuore del mondo. Qui abbiamo cominciato quindi ad approcciarci in un modo diverso, su tre tematiche principali che girano attorno la nostra storia, che sono il tempo, gli alberi e il coinvolgimento. Il tempo significa darci il tempo, ovvero dare il tempo a noi di abituarci, di inserirci a quelle che sono le dinamiche del naturale e delle comunità indigene. e locali, ma dare anche il tempo alle stesse comunità di accettare la nostra presenza, di darci anche la possibilità di lavorare con loro. Il tempo rappresenta anche un approccio. Cosa significa? Significa che noi ci diamo il tempo di gestire la natura come la natura vuole. Siamo noi che seguiamo la natura, siamo noi che seguiamo quelli che sono il svolgimento della natura. Seguiamo quelli che sono quindi tutte le condizioni climatiche, seguiamo le piogge, gli momenti anche di massima aridità. Come si vede nella foto, noi ci distinguiamo anche da altre realtà che più o meno fanno, che operano il nostro settore. E questo ha a che vedere molto con il tempo, perché noi partiamo sempre da seme. Partire da seme significa dare alla futura foresta la maggior eterogeneità genetica possibile. Almeno ci tentiamo. Il tempo significa anche il fatto che ci siamo dati più o meno un anno, due anni di tempo appunto, per studiare quelle che sono le specie arbore principali del posto, in aiuto insieme ai nostri collaboratori locali, che sono gli indigeni o i campesini. Ne abbiamo quindi scelti una dozzina, più o meno, ognuna delle quali si contraddistingue per una caratteristica naturale propria. Chi ha lo sviluppo più alto, più veloce, chi ha la maggiore capacità di creare ombra, chi invece ha la maggiore capacità di trattenere l'acqua. Cioè ovvero vogliamo in questo modo dare la possibilità alla foresta che verrà, che è stata deforestata, di avere tutta l'arterogenità genetica, ma anche di specie che c'era una volta. E l'abbiamo fatto ovviamente grazie appunto all'aiuto delle comunità indigene che conosceva queste piante. Sono piante poi che comunque non hanno soltanto una funzionalità arborea. Lo facciamo anche in un concetto di agroforest, ovvero sono comunque delle piante che possono avere anche un approccio alimentare ed economico per le stesse comunità indigene che collaborano con noi. Come dicevo prima, uno dei tre principali capistali di nostra attività sono le piante, la natura. Questo perché noi quello che vogliamo fare è cercare di creare un circolo economico che passi attraverso la natura, ovvero combattere il cambiamento climatico come promotore per uno sviluppo sostenibile, nei paesi in vede sviluppo. Quindi cosa facciamo? Poniamo la pianta in mezzo a un circolo economico che vede tutti gli interlocutori all'esterno. Gli interlocutori sono i promotori, ovvero chi adotta la pianta. Chi adotta la pianta può essere ognuno di voi, basta che vada sul nostro sito con un click molto velocemente, adotta una pianta. Noi poi pensiamo tutto a noi, georeferenziamo, la piantiamo, le facciamo crescere, le accudiamo. Possono essere le aziende, piccole e grandi che siano, perché siamo assolutamente convinti che la lotta al cambiamento climatico deve essere una lotta comune ma inclusiva, cioè dare quelli che possono essere degli strumenti facili, operativi a tutti, altrimenti difficilmente riusciremo a combattere quelli che sono i cambiamenti climatici. Le piante quindi non sono più lasciate all'esterno, vengono quindi usate proprio come metodo di promotore di un'economia. Lo facciamo insieme alle comunità indigene e lo facciamo attraverso un processo di decentralizzazione della figura del cooperante. E' un metodo abbastanza lungo, difficile, ci vuole tempo anche per questo, non è facile. Lo facciamo anche per evitare che ci siano quei fraintendimenti sociali, culturali che spesso accadono nei progetti di cooperazione allo sviluppo. Lo facciamo partendo dal fatto che la nostra figura del cooperante è essenziale ma deve essere una figura di coordinamento esterno. Chi opera in queste attività devono essere per forza e principalmente i campesini, le comunità indigene. In questo momento lo sta facendo Michele che con grande dedizione e grande sforzo sta portando avanti il progetto da solo, insieme a Inloco, insieme alle comunità indigene. Lo fa di coordinamento. Con noi collaborano una ventina di persone, più tante altre persone. Chi si occupa della semina, chi si occupa dell'ivaio, abbiamo vivai per tutta l'area di riforestazione. Chi si occupa del mantenimento, chi si occupa della disseminazione, cioè ovvero andare in giro per tutta l'area di riforestazione a dire quali sono le good practice per portare avanti le piante. Chi invece poi si occupa appunto del mantenimento delle nostre piantine. Questo rappresenta però anche un nodo principale dei nostri progetti, cioè il coinvolgimento delle comunità. Perché senza ovviamente non saremo in grado di portare avanti i nostri progetti. Perché loro sono poi i veri finalizzatori di questo motore, chiamiamolo così. Perché partendo da chi adotta la pianta, praticamente il ciclo si chiude con loro, che sono i finalizzatori ultimi di questo processo. Che quindi non si vedono più costretti o pagati per tagliare le piante. Non si vedono più costretti a tagliare le piante per ricreare nuova terra. Vengono invece in questo modo remunerati per invece piantare le piante. Cerchiamo quindi, abbiamo quindi in questo modo riconvertito, rigirato un po' la medaglia. Lo facciamo appunto in questo sistema, come dicevamo prima, anche gli agroforestry. Quindi non soltanto piante da foresta, le piante appunto da foresta vengono anche qualche volta consociate con delle piante da uso alimentare come possono essere le leguminose. Quindi diamo comunque sempre la possibilità alle comunità di portare avanti comunque quello che è il loro sostentamento, anche alimentare. Quindi cosa succede? Succede che queste comunità incominciano ad avere un'entrata economica che deriva dalla protezione ambientale. Abbiamo dei casi, per esempio, molto interessanti che per noi rappresentano un ottimo cartina attorno a sole di quello che stiamo facendo. C'è gente che sta tornando dalle città verso l'area rurale in cui stiamo facendo i nostri progetti, che di solito funziona il contrario. Alcuni hanno più soldi appunto per portare cibo a casa, riescono a mandare i figli a scuola, tutto attraverso un processo appunto che vede il cambiamento climatico lottato attraverso l'impianto di queste giovani piantine che poi vengono mantenute, monitorate per tre anni, poi per dieci anni vengono poi comunque monitorate. Come dicevo prima, il conveggimento delle comunità indigene, popolazioni indigene è estremamente fondamentale, tutto questo si traduce con un termine tecnico che sta alla base, ovvero che si dice che è il concetto dell'appropriazione. Tutti noi ci saremmo sentiti, abbiamo sentito qualche volta sicuramente questo feeling di sentirci molto più coinvolti in un progetto che ci prende a cuore. Ed è proprio questo, il concetto dell'appropriazione, cioè sentirselo suo, proprio, nostro. Questo ci dà anche la garanzia che quando ce ne andremo, e succederà, spero, abbiamo la garanzia che le piante che abbiamo messo rimarranno lì, che le comunità indigene andranno avanti con questo processo, perché anche tutti i vivai, come vedete nella foto, rimarranno lì, si andrà avanti con questo processo, quindi noi siamo in qualche modo sicuri che loro andranno avanti. Questo è Michele. in un momento di footing. Come dicevo prima, non ho voluto mostrarvi dati, numeri, ho voluto raccontarvi una storia. È breve, lo so, avrei potuto raccontarvene di più, sarei potuto andare più nel dettaglio. Però due numeri concedetemeli. Penso che siano due numeri che sottolineano un po' quello che è il nostro lavoro in questi anni. Nel 2018 abbiamo piantato più o meno, si fa per dire, 3.000 alberi. Quest'anno, 2021, di alberi ne abbiamo piantati 200.000. Grazie a tutti e quando lo vedete, abbracciate un altro. Grazie. 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 Grazie.